Sì, ma sarò veloce anche perché credo che chi è intervenuto oggi voglia avere un po' più contezze e chiarimenti su quella che è la strumentazione messa in campo alla Simast. Voglio fare una piccola premessa. Ricordo che quando con l'amico Luca Silla ci siamo incontrati appena insediato, mi ricordo che mi portò un piccolo articolo che evidenziava una classifica delle regioni italiane per strumentazione a supporto all'internazionalizzazione utilizzata a Simast e che ci vedeva penultimi in classifica nell'utilizzo solo davanti al Trentino, se non sbaglio, che poi aveva tutte quelle caratteristiche delle province autonome, quindi anche con l'utilizzo della strumentazione un po' diversa. Su questo mi ricordo che fu uno dei primi impegni che ci eravamo dati, che poi con la Costituzione del Reo e con il lavoro che svolge continuamente sviluppo Umbria ci siamo dati l'obiettivo proprio di cercare di aprire una finestra utilizzando anche l'attività di animazione che continuamente sviluppo Umbria sul territorio, su quella che è la strumentazione nazionale a supporto delle micro piccole imprese ma anche a supporto delle mid cap per cercare di migliorare la capacità non solo di accesso ai fondi delle imprese regionali ma anche di conoscenza su una strumentazione che spesso era sconosciuta alle imprese locali. Se poi andavamo a vedere un po' la storia delle aziende che avevano avuto successo negli ultimi dieci anni, vedevamo invece che erano proprio state quelle aziende che avevano saputo fare utilizzo di una strumentazione nazionale che spesso si caratterizzava, cito proprio il lavoro che faceva storicamente Simest che era supporto dei processi di internazionalizzazione delle imprese per un accompagnamento non solo finanziario ma anche un accompagnamento sui mercati che andava dagli aspetti di consulenza, assistenza, spesso anche giuridica, pensiamo a tutte le problematiche del credito che rappresentavano uno degli ostacoli principali ai processi di internazionalizzazione fino ad arrivare proprio a un'attività di consulenziale sui mercati. Oggi il ruolo di Simest si è profondamente modificato, i 4 miliardi al cui faceva riferimento Luca Silla sono relativi a una strumentazione del PNRR che dà il famoso fondo 394, dà a Simest un ruolo molto più ampio che non sia solo quello di accompagnare le imprese dei mercati esteri ma di sostenere le aziende in questo grande processo di internazionalizzazione ma anche di transizione digitale ed ecologica e quindi ambientale cercando di riuscire a mettere insieme queste strumentazioni per sostenere un percorso di crescita delle aziende che oggi necessariamente deve andare su tre gambe se vogliamo avere un processo di crescita solido, sano e robusto. Io aggiungo la quarta che è quella delle competenze spesso e che mi piace accompagnare lo dico spesso sui tavoli anche ministeriali la gamba della digitalizzazione, dell'innovazione, la gamba dell'internazionalizzazione, le aziende poi che sanno innovare spesso sono aziende più capaci di andare su mercati internazionali ma non ultimo quella è la transizione ecologica spesso anche la presenza sui mercati internazionali e richiede un livello di certificazione in ambito ambientale non solo le certificazioni SG, pensiamo a settori come quello dell'aerospazio oggi la necessità lungo le filiere di subfornitura di essere certificati SG rappresenta un elemento imprescindibile dell'accesso al mercato. Ecco su questo come Regione Umbre anche con l'ampia strumentazione che abbiamo messo in campo anche con la nuova manovra siamo ora in partenza con i bandi con Remix la logica, uso una parola che piace molto alla finanza pubblica, è quella di costruire strumentazione che non sia in sovrapposizione con quella nazionale ma che possa andare in blendi ovvero riteniamo che le nostre aziende dovranno essere bravi a montare finanza di natura pubblica sempre nei limiti, nei perimetri del sistema del regime sugli aiuti di Stato in cui le strumentazioni sono complementari. È il grande sforzo che abbiamo fatto con la manovra Remix di evitare di fare doppioni, di fare manovre che possono essere le stesse a cui magari le aziende possano accedere e su questo noi riteniamo che da un lato una strumentazione sempre più complementare in blended come mi ha insegnato l'amico Luca sugli aspetti finanziari dal lato, ripeto, la necessità di svolgere anche un'azione di culturizzazione e di sprono sul territorio cercando di avvicinare le imprese locali sui temi importanti che sono quelli di cui parlavamo su questo abbiamo cercato, la parola cultura ritorna spesso, noi venerdì prossimo presenteremo insieme anche all'Agenzia Umbra Ricerca e stiamo cercando di mettere insieme grazie anche a questa cabina del Reo, agenzie che storicamente svolgevano un'azione sull'internazionalizzazione come la nostra agenzia di sviluppo ma anche con l'Agenzia della Ricerca perché noi riteniamo che l'incrocio dei dati, l'attività che in azienda chiameremo di business intelligence che deriva dalla integrazione non solo di fonti finanziarie ma anche di banche dati fra loro diverse come quella regionale, come quella che ci ha fornito proprio anche Sace da una collaborazione di natura più ampia istituzionale può andare a definire quelli che sono degli opportunity gap come amo chiamarli io, ovvero dei rare potenziali di mercato in cui magari il nostro sistema dell'impresa, mecciando i dati, dimostra di non aver performato rispetto a quello che è il suo potenziale e quindi anche questo sarà un'area di miglioramento estremamente importante, quindi finanza, aspetti culturali, animazione su quelle che sono le strumentazioni ma anche un'analisi un pochino più sottile, dettagliata dei dati che possono supportare poi il decision maker regionale sul rispetto. Questa è la visione della Regione, questa è la visione con la cabina di regia del Reo e poi con l'importante supporto operativo ma anche strategico di sviluppo Umbria cerchiamo di dare per impostare in maniera diversa un po' come ci eravamo dati come obiettivo anche con la collaborazione con altri soggetti, cito la Camera di Commercio perché la Camera di Commercio vogliamo riattivare un dialogo nuovo l'obiettivo anche è quello di prima della fine di questo mandato incominciare a parlare anche missioni di sistema ma sarà una cosa che vedremo prossimamente quindi io ringrazio tutti per la presenza, ringrazio l'amica Luca per lo straordinario lavoro che sta facendo e ovviamente gli amici di Simes se siamo qua lo siamo perché abbiamo siglato un protocollo d'intesa che appunto aveva come obiettivo quello di venire nelle lumbre anche un laboratorio in cui poter testare anche strumentazioni nuove, blended come dicevamo ma cercare anche di svolgere una cassa di risonanza per una strumentazione che spesso, troppo spesso le aziende locali non conoscono.